Presidente, come è andata questa lunga riunione, quindi cosa è stato deciso? Ma è andata molto bene, sono molto soddisfatto, è stata una discussione franca, responsabile, matura, ma soprattutto proiettata sui problemi della regione, della Calabria. Il filo che ha praticamente contrassegnato tutti gli interventi, perché sono intervenuti tutti i consigli regionali, sono stati i problemi della Calabria, la necessità di capitalizzare e soprattutto di valorizzare il lavoro che è stato fatto in questi anni in termini di programmazione di risorse, di risposta ai problemi del territorio, ai bisogni sociali. A noi abbiamo problemi aperti che sono riferiti ad alcuni assessori che non sono più nella loro funzione. Il Vicepresidente è stato eletto deputato, quindi a lui vanno i migliori auguri di buon lavoro per la nuova esperienza a cui si accinge a partire da domani, perché domani c'è l'insediamento delle Camere. Io ho avuto pieno mandato da parte dei consiglieri regionali perché si possono affrontare questi nodi nel rispetto dell'autonomia del Presidente, da parte di tutti c'è stata questa sottolineatura, devo dirlo.